35 anni e dire chi mangia e dire chi c'è allora sia autore recita anche lui cerco lo vero Pinocchio recita Francesco Canuso è certo che cerco lo vero Pinocchio Pinocchio è l'imbroglione per eccellenza però a aula c'è un tetto da dicere come se lo facciamo e soprattutto un cerco ciò che mi ha avanti questo è il mondo riprugli e ripruglione il mondo li nizioni e li nizunieri ma qui è che a me da troppi fortuna la sua nizoglia va a cipoti e poi non è vero sentite 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 che lo canta a questo paese succede perché ci sono cose che non si possono dicere inizioni qui è che fa cose buone unì sono spostati da neri e buono vincere sempre in bruglia popolo e in misteri ma io ma io che mi metto a puntare e faccio come lo canta storico lo canta e per puntare a tutti la verità di questi signori che che e ma che puntate chi è che puntate che si fosse manifesto che sbandierate a Pinocchio e a Cipetto e a tutti i gliciti casiti di più onesti io non vi guido però vi porto il rispetto ma non lì sì vedete che là ce l'aviamo avremo i maghi fiduiamo e attariamo non siamo fissa con i feriti e tutti lo vedremo e fatto tutto nuovo e ne arricchiamo le vostre parzellette ciò io sapiamo e iniziate che sparate in Libanamo e non è normale che tanti non vanno usciti perché voi altri sono sparati e ne allungeremo ma che considerate questo signore come a Pinocchio perché dice che mi sono tassi che mi sono i glicati sta riparando il vostro parzelletto perché buttassero solo i debiti gli aggiani e non ho criticato i perlutipuratori vedi che loro amari hanno avuto i strunzi l'acqua era fidente e di mille colori ma le lecce varie a Cillini e a Lungi e poi decidi capolino che lo dite cazzo niente al nemico questo è vero è di lungo ragioni ma pure gli aggiani gli aggiani e a tutti che non ci dico o gli ammalaferi 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 l'aula ha cangiato l'aspetto e la panna grazie a Stupugno dei picciosi spetti ogni promessa elettorale la mattina tutti i giornali fatti puntuali e perfetti lo lungomano oggi è splendente quanto furasteri che ci vengono a passare e il mare legge e il gioiello hanno presente grazie a Stupugno che l'hanno saputo fare la persona è tutta illuminata da una vecchia illuminata magari prima era zona dei lupi oggi ogni zona pare incandata fatta con diligenza e sapereci fare la parma e il piccio sono urinati da tutti i strati hanno fatto sedili e banchini godi la vista della luce e tutti gli urinati gli ammali i costri fatti vanno vicini hanno fatto piaci hanno fatto piccoli hanno fatto strati hanno fatto la pubblica illuminazione da su quattro anni nuova nuova 40 anni 40 anni 4 anni con idee azzeccate andate a lavorare se sono soddisfazioni e oggi la città è turisticina quanto polesteri che ha riuscito a fare una piccola che ha riuscito a fare la città di città e di un'evo d'aule per cui è che vuole prontare e ora giriamo pagina ma qui è che è Pinocchio ma qui è che è Pinocchio qui è che è tu Pinocchio ma qui è un'altra pagliastra nasce con formazione o faccio tu io un pochino di Pinocchio e a pulire che va a pagare questa ministrazione voi io ci si deve un giorno mi finisco l'ospedale di la parisi e ha diventato il pezzo di la zaruna che non nasce giù il piccolino da pulisi se ti come pecco che ci dici curruto cani quanto scoputo che nasce da tutto popolo la pulisi e i nostri piccolini piccolini da pulisi nasce da 12 anni e poi faccio i canifesti i papiloti longhi e attisi faccio i paghattari le puoi da non venga noci non c'è siete chiedi le ore che ne portaste la tutta in la miseria siete amici di prati non siete manco manu vado bene che avete sentito nascere c'è c'è puoi che l'escriviti l'escriviti due l'escriviti l'escriviti chanel l'escriviti